Sindaco Maragno, Salmonella nelle fiume Saline, è arrivata questa ordinanza, c'è preoccupazione per questi dati che sono emersi nelle ultime ore? Diciamo che l'ordinanza è a scopo precauzionale, la ASRA ci ha notiziato ieri che avevano isolato la Salmonella tra le acque del Saline e quindi abbiamo dovuto emanare questa ordinanza qua, perché vieta sostanzialmente l'utilizzo dell'acqua del Saline a fini irrigui e noi abbiamo aggiunto anche il divieto di pesca, perché comunque dobbiamo cercare di tutelare al massimo la salute dei nostri concittadini. Dopo questa ordinanza cosa farete? Stiamo aspettando che comunque le analisi vengano approfondite, infatti l'ASRA ci ha chiesto a scopo precauzionale questa interdizione e dopodiché attenderemo l'esito degli approfondimenti che arriveranno dall'ASRA e mi auguro che poi questa ordinanza possa essere revocata quanto prima. Il fiume Saline era però noto che avesse queste problematiche di inquinamento? Sì, il fiume Saline è uno dei fiumi più inquinati d'Italia, non a caso è un sito di interesse regionale, dopo essere stato sito di interesse nazionale. Noi, città di Montesilbano, insieme alle altre città, gli altri paesi che sono comunque attraversati dal Saline, abbiamo messo insieme le nostre forze creando il primo contratto di fiume per cercare di intervenire e risanare questa situazione ambientale che dà questa preoccupazione.